Un sì all'impegno della politica perché è un lavoro entusiasmante, fatto per il bene collettivo, che si può anche affiancare un lavoro per il quale si è studiato. È un lavoro che mette in risalto le competenze umane, le competenze anche professionali, ma è un lavoro che permette di incontrare molte persone ed esige che uno in qualche maniera si metta nei panni del benessere collettivo e con le competenze a cui può acquisire cerchi di perseguirlo. Quindi un sì all'impegno della politica. Un no ai privilegi, un no alle piccole o grandi benefici che possiamo trarre dalle conoscenze, dal fatto di essere in qualche mania diverso dagli altri. Un no ai diritti che diventano privilegi, un no ai privilegi in quanto tali. Questo è importante, cercare di guadagnarsi il proprio futuro con dignità, con orgoglio, con rispetto degli altri.